Il nostro obiettivo è diffondere la lingua e la cultura italiana. Dal 1889 ne abbiamo fatta distratti. Oggi siamo una rete che si stende in tutto il mondo. Ci unisce l'amore della vita Italia. La voglia di far conoscere la sua bellezza. La lingua. L'arte. Il design. Lo stile. La cultura. Il ci. La musica. Ogni anno organizziamo eventi in tutto il mondo. Lo facciamo per condividere e trasmettere la nostra passione. Perché l'Italia è un'occasione. E l'italiano è un'opportunità. Il ci. Il ci. Il ci. Il ci.